Musica Ciao Ciao, com'è che si può adesso? Sono qua perchè non ho idee per passione e famiglia E non so proprio se ho esaurito le idee, proprio non me ne viene in mente una Io però un'idea ce l'avrei sinceramente E di cosa si tratta? Beh sinceramente un'idea è questa Allora praticamente questo è un video dove tu muori Cioè sinceramente io del fatto che muoio non è che sarei troppo contento Cioè, aspetta, va bene, magari può succedere che si crea una situazione di quel tipo Però possiamo evitarla Scusa, è un'idea bella perché insomma quando muori tutti ridono e Ah, è morto, è morto No ma io non capisco perché la gente deve ridere perché muoio io Scusa, insomma fammi capire Perché devono ridere? Cioè io credo e tutti ridono Eh, 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 perché? Scusa Fabio, allora cambia un attimo l'idea Allora tu, facciamo un video dove tu sei vivo Ferma, ecco già così mi va bene Perché il fatto che sono vivo già mi rasserina un po' no? Perché è bello vedere che io sono vivo La gente magari può ridere perché io faccio qualcosa di divertente e satirico E poi cosa? Vai avanti, vai avanti E poi dopo il video, qua perlomeno a metà video, muori Perché devo morire? Ma perché devo, già hai ripartito bene Che ero in vita, stavo bene E, ah, muoio Magari hai, cioè Come? Come muoio? E allora viene investito da un camion, da un trattore La scia rossa per tre chilometri Fa ridere, insomma, cioè voglio dire Guarda E anche la sgommata Vedete anche magari le strisce di rosso Vedete magari uno strozzo Ma vai a cagare Io devo morire adesso in questi video Cioè adesso la moda è Panic muore Ma dai, ma che cazzo Punizione, per stasera tu non usi più neanche il telefono E neanche il computer No